Io sono Dexter e oggi ragazzi siamo in un nuovo video di Fortnite Oggi ragazzi siamo qui per vedere lo shop di giovedì Se non erro il 4 giugno? Dovrebbe essere il 4? Esatto Allora raga, oggi di nuovo shoppiamo Esatto ragazzi, shoppiamo di nuovo Perché guardate un po' cosa c'è in noi shop Rompighiaccio Non ci penso un'altra volta, vai vai, subito, subito Ragazzi, il mio primo piccone shoppato Però merita Merita perché è bellissimo, secondo me Bellissimo, dopo vediamo anche ovviamente tutte le sue cose Ovviamente non lo mettiamo a questa skin Ma lo mettiamo alla nostra carissima Aura Che è fighissimo il piccone Cioè è fighissimo rompighiaccio con Aura, secondo me Eccolo qua E il modo perfetto per incontrare i tuoi colleghi combattenti Fa parte del set Comando Artico Prima Apparizione Season 1 Bellissimo Bellissimo ragazzi, bellissimo Che poi adesso con Salve al Mondo ci sono dei picconi che neanche sapevo di avere Per dire, cioè ragazzi Incredibile Ok, 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 ok Allora Aura, bellissima, bellissima ragazzi, bellissima Andiamo qua su negozio di azione e andiamo a vedere che cosa hanno droppato oggi Sì, ragazzi, ho troppi pochi V-Buck Però con Salve al Mondo, piano piano Li rifacciamo Poi hanno rimandato di nuovo la Season L'unica cosa buona dell'aver rimandato la Season per l'ennesima volta È stato appunto Che Ho più tempo per farmi V-Buck su Salve al Mondo Ma ragazzi, state tranquilli che preferirei avere la Season in orario Andiamo a vedere tutto lo shop di oggi Skin epica da 1500 V-Buck Astra Una costellazione di abilità e talento Fa parte le sette stelle cadenti Prima perizione, capitolo 2 Season 1 Due stili selezionabili per questa skin Con le stelle Cioè, predefinito E senza costellazioni, diciamo Perché la prima ha le costellazioni e le stelle più piccole però Mentre l'altra non ha le costellazioni ma le stelle Poi abbiamo Stella lucente Segui la via Fa parte le sette stelle cadenti Prima perizione, capitolo 2 Season 1 1500 V-Buck Skin più backpack Con due stili selezionabili Poi abbiamo la sua wrap Costellazione da 500 V-Buck Rara Mostra il tuo stile Fa parte le sette stelle cadenti Prima perizione, capitolo 2 Season 1 Animata Molto, molto bella Fratelli Baozzi Skin epica da 1500 V-Buck Con quattro stili selezionabili Cotto a puntino e pronto all'azione Fa parte le sette fratelli Baozzi Prima perizione, stadione X Poi abbiamo il suo backpack Cesto dei Baozzi Fumante e mirabolante Fa parte le sette fratelli Baozzi Prima perizione, stagione X Quattro stili selezionabili Per questa skin Bro Porcel Bro Vitel Bro Vegetal Bro Gamberet Bellissimo ragazzi Bellissimo Piccone fantastico Elaborazione completa Piccone non comune Da 500 V-Buck Vittoria Palate Fa parte le sette fratelli Baozzi Preparati a incontrare il tuo destino Fa parte le sette stregone Prima perizione Season 4 Sfera sinistra Punta lo sguardo verso l'infinito Fa parte le sette stregone Prima perizione Season 4 Ragazzi Fantastica questa skin Fantastica 2000 V-Buck Skin Più backpack Maestra di Maki Skin rara da 1200 V-Buck Rimboccati le maniche E mettiti al lavoro Fa parte le sette sushi Prima perizione Season 6 Due stili selezionabili per questa skin Primo e secondo Stile Appunto Il secondo stile Nero mi piace di più Ittico Non dimenticare di fare merenda Fa parte le sette sushi Prima perizione Stagione 6 1200 V-Buck Skin più backpack Con due stili selezionabili Ah mi ero dimenticato qualcosa Ragazzi Struttura condannata Si parla ancora della skin Destino Struttura condannata Innalzati sopra il tuo destino Fa parte le sette stregone Prima perizione Season 4 800 V-Buck Per questo piccone Che non mi piace Perché c'è sto scotch Che mi dà fastidio Per proprio vederlo Però il sound è molto bello Ali spagliate Deltaplano epico Da 1200 V-Buck Scatta nell'azione Fa parte le sette stregone Prima perizione Stagione 4 1900 V-Buck Per questo deltaplano Veramente fighissimo Poi vabbè Rompigliaccio Ve l'ho già fatto vedere Fantastico Dopo lo andiamo Lo andrò a provare Magari in live su Twitch Ma non adesso Armadillo Skin Non comune 800 V-Buck Pelle dura Spirito agguerrito Prima perizione Stile 5 Qualche giorno fa Era uscita La Scorpion E adesso è uscito Armadillo Armadillo Raga Non mi piace Mentre la Scorpion E' carina Ammirate Bellissimo Emoto non comune Da 200 V-Buck Guarda che roba Prima perizione Season 6 200 V-Buck Per questa Emoto non comune Ordinare amministrazione Ero indeciso Sciomparmi Rompigliaccio Ordinare amministrazione Però ragazzi Rompigliaccio Cioè Però è bellissima Ragazzi Emoto rara Da 500 V-Buck Con una mano legata Dietro la schiena Fa parte del set Duello finale Prima perizione Stagione 9 Vieni qua Emoto non comune Da 200 V-Buck Non farmi venire Laggiù Prima perizione Capito Season 1 Lo shop si va a concludere In questo modo Ragazzi Tra l'altro Volevo shopportare Stepney Questa volta Visto che ieri Per shoppermi Ora ho supportato Cap Ma va bene Lo stesso Alla fine Sapete che non è Che ho un supporto Un creatore Che mi piace di più Rispetto ad un altro Concludo quel video Spero che vi sia piaciuto Come al solito Se il video vi è piaciuto Se lasciate come un mi piace Iscrivetevi al canale Se mi piace 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 E niente Bella ragazzi Ciao